Lui è Bike, nome d'arte Vittorio Giorcelli e ci canta la sua love story. Vittorio, vieni pure tesoro, vieni sul palco, grazie. Vittorio, vieni pure tesoro, vieni pure tesoro. Vittorio, vieni pure tesoro, vieni pure tesoro. Vieni più spazio, vieni pure tesoro. Questo è un luogo che ho fatto per te. Perché non mi amare più? Grazie Vittorio, grazie a te. Miriam. Ciao Vittorio. Vittorio, stranissimo, ti ho visto entrare e dico, oddio, ma questo ragazzo mi ha incuriosito da subito. Un po' il look, un po' questo baffo alla Freddie Mercury, questo occhio truccato, molto particolare. Sei un po' folle, mi è piaciuta l'energia che hai portato sul palco, anche se devo essere sincera, all'inizio eri un po' più travolgente, ti sei un po' perso per strada durante tutta l'esibizione. Però la performance è stata una buona performance, complimenti. Grazie. Grazie a te Vittorio, ci vediamo dopo tesoro. Ragazzi, talenti, entrate pure sul palco. Un solo nome. Ai 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 ai, ce l'abbiamo già? Sì, l'avete già scelto, bravi, che sono bravi. Venite ragazzi, eccoci qui. Un nome. Decidete insieme e mi date un nome. Difficile, lo so. Avete capito? Eh, lo so, loro mi guardano ed è tosta, è tosta. Ci siamo? Avete il nome? No, non ci credo. Ragazzi, devo chiedere la puntata. Stacchetto, prego. Prego, fai lo stacchetto. Agatha, vieni anche tu con me, ragazzi. Io ho già dato, ragazzi. Tu hai notato, Agatha, una cosa, no? Quando loro entrano, cosa fanno? Ok, ci siamo. Il saluto. Ci sono, finalmente ci sono. Chi è che dà il nome? Diamo la possibilità alla ballerina. Hai capito? Quindi, complimenti Francesca, vai un passo avanti. Un'altra ballerina. Eh, Marco, questo è, grazie mille coach, grazie ai miei giudici favolosi, grazie a voi talenti, grazie agli opinionisti. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!